Il pane di Don Milani viene venduto alla Coppe, un metodo per abbattere le nuove povertà, sperando che questo rappresenti un esempio. È un nuovo progetto di solidarietà attivato a Pianoro, grazie alla collaborazione fra il centro di formazione e la ricerca Don Milani e la scuola di Barbiano, la Coppa Adriatica. La storia è piuttosto particolare, in quanto un gruppo di volontari di Pianoro stava facendo un seminario a Barbiana sul tema della scrittura collettiva di Don Milani. Nella pausa dei lavori seminariali, un gruppo di pianorese è nato a fare la spesa alla Coppe di Vicchio, scoprendo che veniva venduto una qualità di pane toscano ad un euro al chilo, mentre lo stesso genere alimentare a Pianoro veniva venduto dai 2 ai 3 euro, sempre al chilo. A ritorno, il gruppo Don Milani di Pianoro è immediatamente interessato ai dirigenti della Coppe, che aderendo alla richiesta dei ragazzi hanno attivato un progetto nel supermarket di Pianoro, appunto per vendere il pane ad un prezzo ridotto, per aiutare tutti coloro che non arrivano alla quarta settimana, come ha detto Mattia Fontanella della Coppe, nel corso appunto della presentazione ufficiale del progetto. Dice ancora che il nostro obiettivo è quello di estendere questa iniziativa pilota a tutte le nostre realtà commerciali della provincia e della regione, in quanto la povertà colpisce ogni giorno nuove fasce di popolazione, anche autoctona, con una tale virulenza fino a pochi anni fa neppure immaginabile. Ognuno di noi quindi è esposto alla possibilità di precipitare nel baratro delle nuove povertà ed è anche per questo motivo che ognuno di noi dovrebbe interrogarsi, riflettere ed agire nell'ambito delle proprie competenze per contrastare questo processo di degrado sociale. Diversi sono gli enti e le associazioni che hanno aderito e patrocinato questo progetto sociale, a partire dal Comune di Pianoro, dalla CGL e dalla casa editrice EMI. Noi abbiamo il piacere di poter scambiare due chiacchiere con il padre Ottavio Raimondo, direttore della casa editrice EMI, che ci racconterà un pochettino più nel dettaglio in che cosa consiste questo interessantissimo progetto del pane ad un euro al chilo. Grazie. È un progetto, come tutti i progetti, che cercano di coinvolgerci perché la vita, la speranza, sia vita e speranza per tutti, è un progetto che merita un applauso per coloro che lo hanno ideato. Ecco qua il pane. È bello prendere il pane nelle nostre mani. È bello prendere per noi occidentali il pane nelle nostre mani. Quando io mi trovovo in Messico o da altre parti erano le tortiglie. Qui è il pane a cui tutti hanno diritto. Un giorno un gruppo di giovani di Pianoro è venuto da me raccontandomi ciò che abbiamo appena ascoltato. E come responsabile della casa editrice EMI, editrice missionaria italiana, che è l'espressione editoriale di 15 istituti missionari, ho subito detto dobbiamo impegnarci. Viviamo in un mondo capovolto. In un mondo dove la maggior parte delle persone vivono in situazioni di povertà, per non dire di miseria. In un mondo in cui le esigenze fondamentali, basiche delle persone, che sono l'alimento, soddisfare la sete, il grande problema dell'acqua, il vestire, la casa, la salute, l'accoglienza, viviamo in un mondo in cui tutte queste cose sono negate a troppe persone. In un mondo in cui la povertà non è più un monopolio di una regione, anche se in certe regioni si manifesta in un modo più forte, scandaloso. Ma è presente ormai in modo trasversale ovunque. Ma soprattutto viviamo in un mondo in cui la ricerca del profitto fa sì che i prodotti spesso non abbiano il prezzo adeguato, ma un prezzo esoso. Un prezzo che è come una forbice, sempre più distante tra ciò che viene dato a chi produce, al contadino che semina il frumento, è il prezzo che viene esigito a chi compra. E allora per concludere questa parte io ho detto sì, i missionari non possono non approvare questa vostra iniziativa e non possono non appoggiarla. Allora si è deciso di fare una conferenza stampa. Dato che il direttore della Coppa di Pianoro aveva già accettato di mettere in vendita il pane toscano, un tipo di pane toscano, un euro al chilo. Abbiamo detto non possiamo far sì che questa iniziativa rimanga circoscritta, chiusa in quell'ambiente. E allora è nata l'idea di una conferenza stampa. Hanno partecipato due responsabili della Coppa Adriatica, alcuni professori dell'università, alcuni amministratori pubblici e altre persone. E lì abbiamo presentato il pane, questo pane. E i responsabili della Copp si sono impegnati a studiare le modalità per estendere a tutti i soci Copp, a tutti i clienti delle Copp Adriatica, perlomeno inizialmente, la possibilità di acquistare il pane, un chilo di pane a un euro. E hanno mantenuto la parola e dobbiamo ringraziarli perché da qualche tempo questo pane a un euro al chilo si trova nelle diverse Copp. Prima, con mia sorpresa, l'ho trovato nella Ipercop del Centro Lame, e mi sono fermato e voglio raccontarvelo quest'oggi, lì di fronte a tutte quelle scansie di pane. E a un signore che aveva già preso un altro pezzo di pane ha detto ha visto che c'è qui il pane a un euro, no, sarà mezzo chilo, no, è un chilo. E ha riposto quel pane che aveva comprato lì dove l'aveva preso e ha detto voglio provare questo. E poi ho parlato con molti altri quando sono andato alla cassa con sotto il braccio non avevo preso il carrello cinque chili di pane ho detto al cassiere ma avranno sbagliato l'ho voluto mettere alla prova a mettere questo prezzo e dice può darsi no, non hanno sbagliato c'è questo pane a questo prezzo e il cassiere subito si rivolge a una sua collega e dice ma guarda che abbiamo il pane a un euro al chilo e quella signora dice ma allora lo vado a comprare anch'io e io mi auguro che ognuno di noi possa diffondere questa iniziativa ma non tanto a questo è importante per risparmiare ma per dare spazio a un'iniziativa che unita ad altre sarà come una valanga che cambierà il nostro modo di essere il commercio e darà spazio a tutti perché ricordiamolo la vita il futuro o è futuro vita per tutti o non è vita per nessuno e allora auguri a tutti che questo pane non manchi mai sulle nostre tavole sulle tavole di nessuno e che questo pane sia condiviso con cuore di amici con cuore di fratelli grazie dove vuole arrivare quindi questa incomiabile iniziativa non lo so e penso che nessuno può saperlo vedete quando si inizia qualcosa si sa sempre da dove si parte ma non si sa mai a dove si arriva certamente questa iniziativa vuole inserirsi nel contesto di molte molte altre iniziative noi della casa di Tricemi abbiamo pubblicato alcuni anni fa un libro intitolato Guida al consumo critico per far riflettere che cosa c'è dietro al prodotto che tu compri fra due mesi uscirà un altro libro Guida al vestire critico vogliamo essere sempre più protagonisti delle nostre scelte a dove arriveremo io mi auguro che arriviamo a che questo mondo capovolto non rimanga più capovolto ma diventi quel mondo dove la convivialità e non la competitività il dono e non il profitto l'uso e non il possesso diventino la norma e allora ci sarà spazio per tutti e allora ci sarà futuro per tutti mi auguro che insieme a tante altre iniziative anche questa possa essere questo mattone che costruisce la casa comune di una umanità dove tutti possano dire che bello è vivere lottare e sperare insieme sempre senza violenza nel rispetto degli uni per gli altri ma nella decisione ferma che nessuno rimanga indietro che a nessuno sia negata la libertà e il diritto alla vita grazie io sono rimasta colpita da una frase che lei ha detto alla conferenza stampa che comunque lei è caratteristica quando qualcuno si muove gli altri non possono stare fermi questo mi ha colpito tantissimo e magari se ce la volesse un pochettino spiegare nel dettaglio le sarei molto grazie e ha colpito anche tanto tanto anche me e questa frase è nata è uscita dalla bocca di un responsabile del direttore del locale più bello che c'è nella seconda città del Mozambico Beira in un bellissimo caffè dove ci vanno solamente quelli che hanno le scarpe quelli che hanno un certo tenore di vita un giorno mi trovavo in questa città del Mozambico e attraversandola ho trovato un gruppo di ragazzi di strada gli ho detto che poterano salire sul cassonetto del camioncino siamo usciti dalla città ci siamo fermati a parlare poi ho detto loro oggi voglio offrire una bibita ma non qui non in un posto qualunque nel posto più bello della città e siamo andati a questo locale quando siamo entrati il capo il direttore il padrone è rimasto perplesso vedere otto persone senza le scarpe accompagnati da due missionari i ragazzi sono seduti quattro attorno a un tavolo quattro attorno all'altro noi abbiamo comprato le bibite le abbiamo consegnate a loro ne abbiamo tenute anche una per noi e più passava il tempo e più lo sguardo di quell'uomo cambiava a un certo punto lo vediamo che prende un vassoio un vassoio così e va dove c'erano dei pasticcini e mette su quel vassoio dieci pasticcini e poi si avvicina a noi e noi è chiaro gli domandiamo ma che cosa sta facendo noi abbiamo comprato solamente otto bibite dieci bibite e in quel momento ci guarda e ci dice questa frase quando qualcuno si muove nessuno può rimanere fermo aveva ragione era cambiato aveva detto se voi vi siete muozi anch'io devo muovermi guardate il mondo non cambia cambiando gli altri rimanendo tu spettatore ma nella misura in cui tu cambi anche gli altri cambiano e se attorno a te vedi delle persone che stanno ferme non puntare il dito contro ma domandati forse sono così perché io non mi sono mosso quando qualcuno si muove nessuno può rimanere fermo questi amici di Pianorsi sono mossi stimolati motivati dagli ideali di Don Lorenzo Milani e dopo di loro si sono mosse altre persone si stanno muovendo altre persone tutti coloro che camminano nei nuovi stili di vita coloro stessi che mi stanno intervistando in questo momento e che ringrazio Arco Iris tutti questi gruppi sono realtà che ci stanno dicendo è possibile sognare che rinuncia a sognare vecchio ma finché sogniamo siamo giovani e abbiamo la possibilità di costruire un mondo nuovo non più capovolto con queste parole di speranza questo moto perpetuo speriamo che non si fermi mai noi siamo assolutamente in sintonia con questo con questo moto noi la ringraziamo tantissimo per questo intervento e speriamo che questo messaggio di movimento arrivi a tutti nel momento stesso in cui si prende in mano questo pezzo di pane me lo auguro anch'io e ho in mano un libro intitolato dalla violenza alla pienezza dove c'è violenza c'è sempre parzialità c'è sempre esclusione e eliminazione ma se usciamo da questa spirale della violenza troveremo la pienezza quella pienezza che Don Lorenzo Milani sognava e che non è andata nella tomba con lui ma che continua a dare frutti l'ha dato in questi giovani lo darà in ciascuno di noi grazie davvero grazie 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 a tutti grazie a tutti